Il Ponte dell'Immacolata ha pienamente confermato le attese della vigilia che prevedevano bollino nero per il traffico su tutte le principali arterie altoatesine, a cominciare dalla 22, dove si sono registrate code e rallentamenti su tutto l'arco dei 120 km tra Affie e Bolzano. Davvero difficile e quasi impossibile muoversi in città. Fin dalle prime ore del mattino Bolzano è stata presa letteralmente d'assalto, soprattutto da auto e camper, meno dai pullman turistici, che si attendono numerosi invece per la giornata di domani, martedì. Situazione che ha mandato in tilt la viabilità, costringendo la Polizia Municipale a deviare il traffico in zona industriale, dove sono stati predisposti i parcheggi ad hoc per permettere così ai turisti di raggiungere il centro storico con servizi di bus navetta. Visto il grande afflusso di mezzi privati, in fiera oltre 700 posti auto disponibili è stata messa a disposizione una seconda area con 300 posti. Code ed ingorghi si sono registrati lungo l'Arginale, così come lungo la Galleria del Virgolo, senza considerare le altre arterie. Non da ultima la situazione che si è venuta a creare con l'apertura della nuova ala del 20, in via Galilei, con auto in coda per poter accedere ai parcheggi sotterranei del centro commerciale. Per domani, martedì già in tarda mattinata, sono previsti i primi rientri di quei turisti che hanno scelto di trascorrere più di un giorno in Alto Adige.